Questa mozione sancisce un percorso molto lungo e virtuoso fatto dall'amministrazione per risanare il rapporto che c'era tra l'amministrazione stessa e le associazioni di gestione dei servizi nei mercati, altrimenti dette AGS. Abbandonate a loro stesse per anni, forse per decenni, nell'ultima convenzione precedente, quella del 2002, qualcuno aveva messo che i fondi derivanti dagli abbattimenti, se le AGS non avessero chiesto l'intervento di Roma Capitale per risanare il mercato, potevano rimanere nelle casse delle AGS. Questa cosa è quantomeno strana. Sicuramente ho chiesto delle indagini in merito perché è un uso improprio di fondi di Roma Capitale. A partire da questo, chiamiamolo errore, siamo ripartiti per restituire una commissione di vigilanza che è un duplice ruolo, quello di vigilare sui bilanci dell'Associazione di gestione dei mercati perché queste associazioni come agenti contabili gestiscono soldi affidategli da Roma Capitale e secondo ruolo è quello di aiutare le AGS nella gestione. Molto spesso i presidenti dell'AGS non sono degli esperti contabili, quindi hanno bisogno magari di qualche delucidazione, di qualche chiarimento, di qualche aiuto per poter non solo gestire direttamente praticamente la vigilanza, la guardiania, la pulizia all'interno dei mercati ma anche di come rappresentare queste problematiche all'interno di un bilancio in maniera chiara, trasparente e semplice. L'esame che fece il precedente assessorato portò a rilevare un uso di questi fondi insufficiente pari a circa il 50% che portò al dicembre 2017 a modificare l'abbattimento su spinta dell'assessorato al punto 50% del canone previsto. Ci furono proteste degli operatori perché sicuramente nessuno lo nega, i mercati versano in condizioni economiche di crisi e a loro dire questo 50% non bastava per gestire i fondi nei mercati. Noi questo 50% non lo abbiamo trattenuto per Roma Capitale e per altre cose ma l'abbiamo reinvestito nei mercati stessi, in quei mercati e in altri mercati di Roma Capitale che abbiamo ristrutturato aggiungendo altri fondi a quelli derivanti dal canone. Con questa mozione dopo un percorso durato più di un anno siamo ad aumentare l'abbattimento, quindi non come hanno detto impropriamente e ingiustamente i giornali ad aumentare il canone, ad aumentare l'abbattimento, quindi stiamo diminuendo o stiamo aumentando i fondi a disposizione dell'Associazione di Gestione dei Servizi. Quindi ci saranno più fondi nel 2019 per i mercati per gestire questi servizi. Questo significa andare incontro alle AGS ma siamo stati chiari, c'è un percorso virtuoso che va intrapreso e dal 2020 queste associazioni saranno valutate nel merito, quindi in base a determinati criteri potranno avere un abbattimento superiore a quanto? Al 65%, quindi se saranno virtuose avranno più fondi da gestire ancora, se saranno poco virtuose avranno meno fondi da gestire. Noi pensiamo che questo è il miglior percorso possibile, siamo consapevoli che le AGS non sono soddisfatte ma noi riteniamo che gli AGS non siano gli unici interlocutori in questa fase ma lo siano anche i cittadini perché i mercati sono servizi per i cittadini e il lavoro per gli operatori. Non dobbiamo dimenticarcelo, non se lo dobbiamo dimenticare neanche le opposizioni e rappresentare solamente la visione delle AGS. Per questo motivo abbiamo portato questa mozione e chiediamo all'Aula di valutarla seriamente per poi procedere alla modifica della delibera in assemblea del tariffario di Roma Capitale dei domandi a servizio individuale e sancire ufficialmente questa nuova tariffa. Grazie.